Il volto della felicità di Scudieri, Palumbo che fa i gestacci dietro 3-0, il più grande ottimista non l'avrebbe previsto? No, sinceramente no, perché sapevamo che questa è una squadra competitiva, perché sapevamo che avevano delle buone individualità, soprattutto davanti, che ci avrebbero messo in difficoltà, però 3-0 no, però siamo venuti a fare la nostra partita, va bene così, siamo stremati, però va bene così. E poi alla fine competitiva si è rivelata questa squadra, perché alla fine a un certo punto del secondo tempo meritava pure di fare un gol. Sì, sì, la reazione c'è stata da parte loro, soprattutto nella prima parte del secondo tempo, poi sapevamo che a un certo punto loro si sono schierati con 5 punti addirittura, giustamente, stando in casa hanno potuto fare la loro partita, però noi siamo stati capaci a sfruttare le nostre ripartenze, soprattutto essere cinici, soprattutto con Lazzarini e con Di Lallo che ha avuto l'opportunità di fare questo grande gol. Adesso, più che la pratica finale, perché ribaltare un 3-0 da parte del Catania-Sampio credo sia proibitivo, avete tanti diffidati nella partita di ritorno proprio contro i Catanesi a Selvapiana, quindi dovete fare una partita attenta e senza fare falli? No, questo sì, dobbiamo stare un po' attenti, dobbiamo stare sempre sul pezzo come vuole il mister, non è detto, non è scontato che non abbiamo passato il turno, perché sinceramente queste qua hanno delle minorità davanti che ci possono mettere in difficoltà. Dai, diciamo la verità. No, 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 festeggeremo al novantesimo minuto dopo il ritorno, quindi. 99%? 99%? No, 99% percentuale non mi sono mai piaciuto. Federico che fa questo gol a quattro secondi dalla fine? Eh, ci siamo, dico la verità, sono contento per lui perché merita il ragazzo, perché ha fatto molta gavetta, si è fatto trovare sempre pronto nel momento in cui si è stato chiamato in causa, quindi sono contento per lui. Adesso 10 ore di pullman. Adesso sì, adesso ci fermiamo e mangiamo un po' di cannoli e arancini per festeggiare. Mi sembra giusto. Federico, ecco di qua. Sì, salve. Ma che hai fatto? Ho provato a tirare, ho fatto gol, meno male perché diciamo che è un gol importantissimo. Sembrava questo un canestro da basket, cioè a due secondi dalla fine tu hai fatto il 3-0, hai chiuso la qualificazione. No, speriamo, abbiamo ancora la partita di ritorno, però diciamo 3-0 è un vantaggio importante, noi rispettiamo tutti, quindi sarà importante vincere e fare bene anche il ritorno. Sei diffidato nel ritorno tu e altri 4-5? Sì, purtroppo dobbiamo gestire anche le ammunizioni, magari forse il vantaggio ci darà l'opportunità anche di gestire le ammunizioni. Tenti ai cartellini gialli, se no saltate Firenze. No, vabbè, non parliamo ancora di Firenze, diciamo il mister ci tiene sempre sul pezzo, ci ha abituato a parlare a qualificazione ottenuta. Io penso che il più fervido ottimista non avrebbe mai pensato a uno 0-3. Sì, diciamo che secondo me è la seconda metà del secondo tempo che abbiamo sofferto un po', abbiamo giocato una grande partita, subiamo poco e forse abbiamo stati bravi a far ripartire e a fare gol nel momento in cui loro si sono scoperti di più. Quindi diciamo merito a tutti, questo è un grande gruppo, un grande mister, una grande società e grazie anche ai tifosi che ci hanno seguito e sono arrampicati per versi la partita.